Viva l'Italia Viva e Viva Vita! Abbiamo con noi il direttore del settimanale Vita, Riccardo Bonacina. Viva l'Italia Vita! Tutti gli auguriamo di vincere e poi di vederlo al governo di questo Paese, di non prescindere mai da ciò che il dato di realtà di questo Paese suggerisce, che è la grande capacità d'energia, la grande capacità di creazione di valore che è il filone più serio per pensare alla crescita. Prima che le banche, prima ieri ho visto che Grilli implora a lui di non considerare 2 miliardi per ripianare il deficit del Monte Paschi Siena, di non considerarlo aiuti di Stato. La cosa sinceramente è scandalosa perché Grilli non dice una parola a difesa delle cooperative sociali di questo Paese, a cui si vuole innalzare l'IVA dal 4 al 10%, è neanche un sospiro, mentre implora su Monte Paschi, che ha dilapidato, come Renzi spesso sottolinea, in 20 anni un patrimonio di 600 anni della storia senese. Allora, ripartire da 3 milioni di italiani che si impegnano ogni settimana nelle organizzazioni di volontariato, una ricerca della Gionocchis ha provato a calcolare il valore economico, perché il dono è un gesto economico. L'ha calcolato in 700 milioni di ore, donati da tanti italiani per il bene del proprio Paese, che corrispondono a quasi 400 mila individui che lavorano full time 38 ore alla settimana. Secondo l'Istat, 7 milioni di cittadini usufruiscono dei servizi dell'associazione di volontariato, nel socio sanitario, spor, ricreazione, servizi ricreativi, nei beni culturali, altro giacimento fondamentale in questo Paese. Spesso il volontariato non si potrebbe usufruire di questi beni. Le cooperative sociali penalizzate in maniera incredibile, sia nel decreto della spending review, sia in questa legge di stabilità, sono 14 mila e danno lavoro a circa 30 mila persone con svantaggio, persone con disabilità che sarebbero un puro costo per questo Paese. Per il sistema sanitario invece producono valore e conquistano cittadinanza. Ma la gratuità non si esprime solo in forme organizzate, ci sono tutte le forme individuali. Io ricordo i 15 milioni di cittadini italiani che firmano ogni anno per il 5 per mille, per destinare il 5 per mille delle proprie tasse a delle associazioni di volontariato o enti di ricerca scientifica. Anche qua il governo Monti ha sottratto 80 milioni da quanto gli italiani avevano dichiarato per destinarli non si sa bene a dove. E questa norma del 5 per mille è ancora una norma sperimentale. Quindi Renzi, se governerà, e nei primi 100 giorni fa il piacere di renderla una norma fiscale, perché è inutile chiedere di pagare le tasse se lo Stato non mantiene le promesse. Perché gli italiani firmano per il 5 per mille, che poi a fine dei giochi, quindi vuol dire tre anni dopo più o meno, perché le organizzazioni vedono i soldi tre anni dopo, questo si riduce al 4 per mille. E siccome la dichiarazione dei redditi è un atto sacro, lo Stato per primo deve mantenere le sue promesse. Nonostante la crisi economica nel 2011, il 44% della popolazione italiana ha effettuato una donazione. Anche qua si sta mettendo a mano donazioni, detrazioni e si sta combinando un disastro. Ma come fai a rinunciare alla capacità donativa degli italiani? Pensate che con l'adozione a distanza gli italiani sostengono un milione di minori stranieri nel mondo, con 500 milioni di euro. Cioè lo Stato italiano per la cooperazione internazionale nell'ultimo anno ha dato 80 milioni. Cioè gli italiani di tasca loro, classi scolastiche, famiglie, danno per la cooperazione internazionale 500 milioni di euro. Ecco, allora chi governa, speriamo sia Matteo, non può, prescindere da questo, non può mortificarlo, perché lo stanno mortificando da cinque anni. È difficile donare, è difficile impegnarsi, è difficile fare una cooperativa che si occupa di minori o di anziani. Non può mortificarlo e deve invece valorizzarlo, liberarlo. Quindi diciamo l'augurio che faccio a Matteo è che insomma dia corpo a questo sogno e però per prima cosa guardia tutta questa ricchezza, perché questo giacimento lo stiamo solo sfruttando e invece ha bisogno di essere valorizzato e liberato. Innanzitutto tema che è diventato un tema della campagna di Matteo, anche con un servizio civile europeo e obbligatorio, perché noi abbiamo 9 milioni di giovani tra i 18 anni e i 28 anni con un tasso di disoccupazione che si avvicina al 35%, 3 milioni né studiano né lavorano e chi ci governa riesce a mandare in servizio civile 13 mila giovani ed è sinceramente una vergogna. Grazie. 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 Grazie.